uno stalker io ho uno stalker che mi perseguita da mesi che su facebook si chiama Italo Brussolo è un pazzo, io non so assolutamente chi sia però è un pazzo che è convinto che io sia un'altra persona una cubana di nome Judy che avrebbe pubblicato dei video porno insieme a lui sui vari canali porno vuole denunciare te, noi e tutti quanti questo deve essere un pazzo perché non so minimamente chi sia sono riuscita a rintracciare il suo numero di telefono io sto parlando di Andres 4556 Andres 4556 Andres 4556 guarda che so che stai facendo tutto quanto registrato qua ci sono numeri di telefono Grazie a tutti Italo adesso io ti saluto e ci sentiamo presto allora ciao